Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic e benvenuti in un nuovo video all'insegno della rete Esatto, è un po' che non facciamo video riguardo a internet, a come utilizzarlo e sfruttarlo al meglio per il proprio videogiocare ma anche lavorare e altro Questo è proprio il focus sul videogiocare Le best practice, i migliori modi per ottimizzare il più possibile la vostra rete qualsiasi rete abbiate, qualsiasi tipo di connessione abbiate proprio per il gioco, il videogame online ovviamente Cambia la veste ma non cambiano le offerte e anche per il 2021 ci accompagna WhoKeys Su WhoKeys potete trovare chiave di software, sistemi operativi e giochi a partire da Origin, Steam, Uplay e perché no anche Playstation Non cambia neanche il nostro codice sconto per software e sistemi operativi ad esempio inserendo PD20 a carrello per l'acquisto di Office 2016 ricevete il 20% di sconto Oppure la classica chiave di Windows 10 Pro OEM sarà sempre disponibile a 10€ Vi basterà quindi inserire il codice sconto, selezionare PayPal come metodo di pagamento e il gioco è fatto Ma ora torniamo al video Molti pensano che semplicemente basti avere un'elevata larghezza di banda per poter giocare bene Che in questo momento non è una frase del tutto sbagliata Ma oggettivamente incompleta Perché? Perché ci sono una miriade di altri fattori da considerare Primo tra tutti sicuramente E ne abbiamo anche parlato in video dedicati alla latenza La latenza, quindi il ping Con ping si intende letteralmente il tempo che intercorre tra quando avviene l'azione nel gioco e quando la percepite voi in gioco Quindi quel lasso di tempo che c'è tra l'avvenuta effettiva dell'azione e quando la vedete voi è la latenza di rete Che pacchetto che va e torna in rete Esatto Inutile dire che più è bassa quindi meno millisecondi passano in questa operazione e meglio è Assolutamente, perché così evitiamo effetti che hanno proprio anche in gioco Un'elevata latenza Genera proprio anche in gioco tipo rubber banding quando voi siete indietro, poi avanti, poi tornate indietro che è un effetto veramente fastidioso e molti altri che proprio minano l'esperienza videoludica La maggior parte delle volte, purtroppo questi fattori legati alle connessioni sono legati alla connessione quindi quello che potete fare al massimo è parlare col vostro provider e dire io parca puttana perché qua va tutto di merda Però di fatto io anche dieci anni fa con la team avevo attivato una modalità per il gioco erano poco meno di dieci anni fa Abbiamo attivato tutti quel tempo lì Che abbassava il ping parecchio e io ai tempi con una sette mega e quattro e mezzo effettivi riuscivo a giocare bene Erano tempi diversi però ragazzi Erano tempi quando c'era questa cosa qua adesso non lo potrai fare più adesso che vivi comunque da solo non hai questi problemi perché ci sei solo tu e la tua ragazza però quando vivi in famiglia soprattutto in questo periodo qua ormai tutti sono digitalizzati mentre fino a qualche anno fa anche i più diciamo avanti con gli anni non avevano dispositivo adesso capita tranquillamente di vedere 60 anni con smartphone, tablet e pc Ma non solo tutti si sono digitalizzati tutto si è digitalizzato Esatto adesso si ha il wifi sulla lavatrice, lavastoviglie, domotica si ha una quantità di dispositivi connessi che va a veramente ostacolare tanto la capacità di connessione e quindi la velocità che poi si è in gioco nell'attività dedicata adesso andiamo a vedere alcuni punti per cercare di migliorarla Per quanto riguarda il discorso della larghezza di banda che vi abbiamo detto appunto non è l'unico dato da tenere in considerazione proprio perché spesso e volentieri si fa l'errore di pensare a una 100 mega o 100 mega dedicati al mio pc, al mio gaming non servono 100 mega per giocare online punto numero uno e punto numero due dovete prendere in considerazione che per tutti i dispositivi collegati è dedicata una frazione di quella banda totale quindi del bandwidth totale che avete sui 100 mega, 200 mega una parte va ad ogni dispositivo collegato quindi disponibili per il vostro pc c'è solo un tot Dipende da chi state utilizzando il problema è che ragazzi non è che di solito la gente gioca alle 4 di pomeriggio la gente gioca la sera e la gente guarda le serie tv la sera Esatto Cioè è molto probabile che voi con vostra sorella o i vostri genitori o la vostra fidanzata stia facendo, stia guardando serie tv mentre voi state giocando Se avete il gigabit a posto tutti però se avete, è un ottimo router però se avete una 20 mega esatto neanche FTTC è fiber to the cabinet vi ricordo quindi che arriva la fibra fino all'armadio ma dall'armadio a casa vostra il rame è una bella perdita comunque poi dipende dalla distanza che avete a voi dal cabinet Dipende quanta gente c'è in quella zona quanto vi hanno abbassato il profilo eccetera eccetera Allora dovete ottimizzare Allora dovete ottimizzare Sembra il consiglio della nonna perché è la cosa più ovvia Di fatto lo è perché comunque non lo è perché molti pensano che il wifi abbia fatto passi da giganti ed è la verità anche il wifi 6 ha fatto passi da giganti però non sono tantissimi i dispositivi che lo supportano ad esempio PS5 sì ma Series X no le schede madri ormai quasi tutte le schede madri quelle di nuova generazione sì ma se andate indietro anche solo di una o due generazioni no ad esempio quindi non sono tantissimi il wifi 6 effettivamente con un ottimo modem con un ottimo router non ha effettivamente troppa perdita rispetto al cavo però in una condizione ottimale un router vicino alla piattaforma alla sorgente di gioco una piattaforma ready per il wifi 6 iniziamo ad andare su coi costi ecco non siamo proprio una cosa che hanno tutti soprattutto perché parliamo PS5 e schede madri nuovi cose che attualmente si fanno fatica a trovare infatti oltretutto c'è sempre il problema di tutti i dispositivi connessi in wifi perché la maggior parte dei dispositivi sono connessi in wifi di fatto quindi il problema di cui parlavamo prima riguarda molto più il wifi l'intasamento dei canali del wifi ma a questo ci arriviamo il consiglio pratico quindi è quello di utilizzare il cavo e se non ce lo potete utilizzarlo trovare una soluzione per utilizzarlo cablare la vostra casa in modo tale da avere un wifi extender perché il wifi extender non va bene per giocare fa schifo ma per connetterci in nano leaf va benissimo per fare queste cavolate qua mentre per giocare è giusto che voi abbiate sempre solo il cavo poi posso capire veramente certe situazioni in cui non ce l'avete ma se volete giocare il cavo è veramente qualcosa di importante da avere e cercate utilizzando powerline se avete un compianto elettrico abbastanza nuovo se avete una casa di 60 se avete la possibilità privilegiate sempre il cavo da questo punto di vista mi sentirei di dire che effettivamente cablare cioè tirare un cavo sembra una cosa complicatissima ma infatti sembra una roba che veramente devi distruggere casa per farlo in realtà non è così complicato soprattutto se pensate che di solito almeno vabbè poi per le case vecchie è sempre un discorso complicato però anche case di 20-30 anni fa non sono cablate tanto male da non permettervi di tirare un cavo in più per le canaline quindi si tratta solo di svitare quei pannelli che vedete a muro fargli fare un giro ok magari è un po' complicato l'approccio ragazzi non è un lavoro infattibile no anzi ecco non so se lo volete magari possiamo anche farlo possiamo provare stiamo comprando casa è una cosa che sicuramente dovremmo fare in casa nuova magari ci facciamo un video ma vi posso assicurare ragazzi che beh tu l'hai fatto per lavoro quindi diciamo che è vero è vero quello è la barriera forse la conoscenza di come farlo di passare dei cavi ma ragazzi si inserisce la sonda si attacca il cavo si tira il cavo si fa in un'altra parte su Amazon ha pochissimi soldi 10 euro infatti non ci vuole niente avete fatto il vostro cavo e tirato e non avete proprio nessun problema fatto da muro a muro niente power niente costi in più niente soldi niente altro e la cosa più economica è migliore non si fa per motivi di conoscenza esatto ma vi posso assicurare che è una roba tutt'altro che infattibile se vi va lo facciamo un video così per spiegarvi un po' come fare se però siete diciamo ristii a fare tutti questi lavori al power nel cavo cosa che però mi sembra veramente molto molto fattibile potete anche giocare in wifi assolutamente ve lo dico però un po' così perché il wifi non è qualcosa di magico che passa ai cervelli vi fa venire 200 malattie passa ai muri immortali quello è il 5G stai facendo confusione ah scusa il wifi qualsiasi cosa passi lo sente ha un impatto sulla velocità poi di connessione e sulla vostra rete con questo intendiamo piani separati muri armadi mobili in generale qualsiasi ostacolo peggiora la ricezione del segnale molte volte il router è in sala e la postazione è in camera o su di sopra o dall'altra parte della casa contro il muro perché ovviamente è sempre contro il muro la postazione in fondo alla casa il router è in salotto o peggio ancora in taverna quindi con magari il cemento armato in più quindi chiaramente quello peggiora sicuramente la situazione quindi il consiglio se non potete fare a meno del wifi da questo punto di vista ce ne sono tanti di consigli per il wifi ma quello più banale è di avvicinare il più possibile il router alla vostra postazione quindi quello di rendere il segnale che sia 2.4 o 5 gigahertz il più vicino possibile al vostro pc esatto o alla vostra console e uccidere tutti quelli che ci sono in casa che usano il wifi al posto vostro perché voi dovete giocare e non loro gli altri non devono fare niente poi ragazzi dovete usare anche il canale giusto perché i 5 gigahertz ad esempio non hanno sovrapposizioni di bande ma il 2.4 sì se siete lontani e utilizzate ad esempio il 2.4 generico e preimpostato magari è super affollato è una quantità di stunno pazzesco ci sono delle app che vi permettono di poter analizzare il segnale wifi le scaricate sul telefono e vedete sia le zone morte dalla casa dove non vi prende il wifi ve le lasciamo qua sotto ve le lasciamo qua sotto in descrizione sia dove non prende il wifi sia quale sono le bande giuste da poter utilizzare quanto sono incasinati i vari canali che nel caso del wifi cioè della banda 2.4 dovrebbero essere circa 11 quindi potete scegliere tra questi 11 canali e potete impostarli voi dalle impostazioni del router quindi chiaramente dovrete avere il login per il router per modificare proprio il canale di wifi e per fare questo sono delle pratiche davvero semplici perché l'interfaccia dei router dei modem sono più o meno tutte uguali alcuni posizionano le schede in posti diversi alcuni sono un po' più casinari altri sono un po' più semplici ad esempio fritz a me piace molto come è molto semplice asus è un po' più casinara però ad esempio fritz cambia i nomi alle cose il quality of service non è quality of service ma è tipo prioritizzabilizzazione e anche qua il quality of service ragazzi è importante perché con una fraccata di dispositivi vi permette di dare delle priorità importanti sulla linea vostro padre che sta lavorando in smart working madre pure sorella in dad e tu devi giocare la priorità ce l'hai tu ragazzi non stiamo qua a scherzare togli proprio i dispositivi lo che fai cioè vai perché non sono più connesso a internet Lorenzo al di là delle cretinate in generale col quality of service on service o chiamatelo come volete lo trovate come qos nelle impostazioni di base potete decidere se dare priorità di banda a diverse applicazioni ad esempio quindi al gioco piuttosto che alla navigazione internet o anche in questo caso darne meno agli altri gigantesca parentesi ma molto importante per fortuna ogni tanto il nostro governo qualcosa di giusto lo fa poco ma qualche anno fa è stata approvata la legge del modem libero il modem libero è stata una delle leggi più importanti per questa cosa qua perché di fatto a parte che ti dava una violazione un obbligo che mi dava fastidio era fuori di testa proprio a livello di formamenti che mi devi imporre cosa io devo utilizzare come oggetto qualcosa che non ha senso ragazzi è molto importante che team come ad esempio parlo del team hub plus perché è una situazione che conosco ma probabilmente è molto attuale esatto ma probabilmente anche altri esempio il quality of service non ce l'ha c'ha il wifi 6 ma è proprio spoglio incompleto e voi lo andate a pagare probabilmente di più molto molto di più della maggior parte di quelli che comprereste normalmente esatto perché alla fine è solo reteizzato ma alla fine lo paghi oltre 200 euro tipo su tutto quello che è perché ti costa magari 5 euro per tot mesi e va a finire che lo paghi 250 euro infatti cioè tantissimo per un modem router che non va in niente no esatto cioè non fa così schifo meglio va bene per un utilizzo blando ma se siete una famiglia che utilizza internet che ormai è diventato quasi più importante dell'acqua corrente cavolo cioè oggettivamente ragazzi si usa per tutto lavorare a giocare tutto ormai una casa senza internet per niente diventa qualcosa di difficile a utilizzare spingete spingete per non farvelo dare e comprarne uno fateci sapere qua sotto qual è la vostra situazione esatto se vi hanno ancora obbligato se avete avuto problemi altro io non voglio accusare nessuno in questo video nessun operatore però è una cosa molto seria questa anche perché team in particolare come altri fornisce il proprio UGG il proprio dispositivo in generale ma ci sono anche provider che forniscono buoni dispositivi tipo fino a qualche anno fa wind se non sbaglio dava i 7490 per cui c'è ci sono dispositivi forniti dall'operatore e dispositivi forniti dall'operatore non sono tutti merda in generale no però tipo il team hub plus è un prodotto che non è che è una merda però andate a pagare per la cifra che andate a pagare e che si è inserita nel contratto è oggettivamente una merda è un po' come i dispositivi Apple cioè paghi molto di più ma che cazzo dici quindi vi lasciamo qua sotto degli esempi di modem router comunque con le palle da preferire sempre in ogni circostanza non solo prestazionalmente ma anche col software cosa più importante infatti perché vi ricordo che protezioni pensate che avete il team hub o quelli che vi danno cioè entrano come niente anzi è uscito un articolo proprio che che diceva che se tutti avessero lo stesso modem router come volevano con questi team hub qua buchi casa di tutti con una facilità incredibile quindi state molto attenti perché su queste cose non si scherza ragazzi per il discorso legato alla latenza che facevamo prima del ping ovviamente giocare online vuol dire giocare in più condizioni più giochi un sacco di variabili un sacco di dammi la mia penna io mi piace giocare con le cose mentre parlo e vuol dire anche spesso e volentieri giocare con magari gente che sta in un altro continente paradossalmente quindi in questo senso sappiate stavo stessi dicendo paraponzi ponzi no continente nero paraponzi ponzi in quel caso sappiate che state giocando con un ragazzo in Asia il ping sarà orribile orribilmente alto quindi chiaramente se potete nei giochi vari online a cui vi approcciate tentate di giocare all'interno della vostra regione nazione continente per lo meno e cercate di stare sotto i venti che è il ping migliore in assoluto assolutamente quello proprio che vi permette avere un'esperienza video ludica il migliore anche per misurare il ping vi lasciamo un programma qua sotto e come ultima chicca questo per gli utenti un pochettino più skill si più che altro esigenti a livello che possono anche spendere un po' di più perché alla fine si trova sui dispositivi più recenti e più di fascia alta il multi user maimo che solitamente vedete indicato come mu trattino mimo con i nomi ragazzi sono dei fenomeni si veramente è un tecnologia che permette al router di ottimizzare ulteriormente il wifi quindi stessa condizione di prima quindi se dovete per forza utilizzare il wifi con un dispositivo mu maimo in teoria riuscite a instradare meglio i pacchetti su tutti i dispositivi collegati alla rete quindi avere meno sovraccarico del wifi meno latenza meno pacchetti distribuiti a caso e più efficienza però appunto è solo per se state scegliendo un router moderno o se ce l'avete chiaramente di fascia alta ecco prima della riflessione finale veramente continuiamo a puntare il dito e a rompervi le bale sul discorso dei dispositivi ormai in una famiglia di 4 persone non è raro pensare che abbiano 12-15 dispositivi in casa ma va facilissimo attaccate lui quindi veramente pensateci perché è un investimento che però internet ormai va dato per scontato internet ormai secondo me è da classificare come servizio primario e quindi da dare con l'IVA 4% con tutte queste cose qua che secondo me è proprio un servizio primario però ma deve questa è un'opinione personale al di fuori di tutto fighissimo giocare con i giochi multiplayer però magari soprattutto in questo periodo che non vedete i vostri amici quindi è bello giocare in multiplayer però non dimenticatevi delle esperienze single player perché queste veramente possono comunque darvi tantissimo e qua mi rivolgo soprattutto magari ai più giovani che seguono il canale perché quelli della mia età sono sicuro che amano il multiplayer ma hanno una fetta enorme di single player ai single player sicuro ragazzi comunque date tanta chance a questi giochi e non dateli per morti se non hanno la modalità multiplayer godetevi più esperienze possibile e questo è un altro consiglio personale perché secondo me meritano veramente tanto al di là delle esperienze multiplayer che sono fighe con gli amici e tutto perché anche noi in questo momento dove non vediamo i nostri amici abbiamo giocato molto multiplayer però il gioco single player rimane secondo me l'esperienza cardine e videoludica opinione personale ma secondo me andava detta sembrava una pubblicità progresso difendiamo i panda in Asia e dai fammi influenzare un po' bravo hai fatto bene mi piace quindi ragazzi fateci sapere cosa ne pensate assolutamente se avete voi metodi da aggiungere integrare questi lasciateli nei commenti che cosa usate che non è bestemmiare perché la vostra zona è no la bestemmiate pure abitate chissà dove vi arriva una linea del cavolo però fateci sapere anche questo perché bene o male la fibra si sta diffondendo sempre di più però ci sono tante situazioni ancora in cui non si riesce ad avere una linea buona e ovviamente il sistema di internet di Elon Musk non è la risposta ragazzi secondo me no per niente non adesso per lo meno esatto fateci sapere tutto quello che volete postare nei commenti ricordatevi di seguirci anche sui social instagram telegram eccetera eccetera e alla prossima ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.